Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La vicenda è già rimbalzata ovunque sul web, dove spopolano i commenti di chi fa fatica a capacitarsi di un dramma simile. Un bambino innocente, per giunta gravemente ferito testa, è stato lasciato da solo per troppo ore. Purtroppo non ce l'ha fatta e tutto il mondo ne piange ora attonito la scomparsa. Ecco i dettagli di questa drammatica storia. Ethan era un bambino appena un anno, inspiegabilmente abbandonato da solo nella sua culla fino a una morte sofferente. Aveva appena subito una brutta caduta e la madre, invece di soccorrerlo e chiamare un medico, ha deciso di lasciarlo da solo per tante ore in casa mentre è andata a fare shopping. Al ritorno, Stacey Davis, una 35enne del Regno Unito residente a Melksham, si accorta che il suo bambino era morto e ha chiamato i soccorsi. Trasportato d'urgenza al Royal United Hospital di Bath, il povero Ethan è stato dichiarato morto poco tempo dopo. Invece di disperarsi, rendendosi conto di ciò che aveva fatto, la donna si è limitata a mettere in vendita gli averi del piccolo, uno scatolone pieno di robe, sul mercatino online di Facebook. Dall'autopsia è emerso come il bambino avesse riportato un trauma cranico, ma non sarebbe stata questa la causa del decesso, da imputare invece ad altre ragioni mai chiarite, in seguito a questi gravi fatti, che risalgono al giugno del 2018. La 35enne è stata poi processata e condannata lo scorso 1 grado dicembre 2022 a due anni di carcere per il reato di crudeltà sui minori.